Due parole dopo questo brano, però questa è la mia seconda data qui, non so veramente che dire, nel senso che la dimostrazione è 29, 29 quindi, 29, 21 besi no? Comunque, più dimostrazione di quello che avete fatto in questi due giorni non esiste e io vi ringrazio tanto perché qua come mi sento a casa ovunque, ma qua c'è quel filo di magia che non so spiegare, c'è un'energia, un calore che non me ne voglia nessuno, ma è veramente unico. Siete così passionali, siete così coinvolgenti, siete, non lo so che siete, però siete qualcosa di unico, di emozionante, di emozionante e la cosa bella è che oggi è diverso da ieri e questa è la cosa che mi emoziona tantissimo, ogni concerto è sempre diverso e ieri ne ho fatto uno qui nello stesso posto e oggi, lo sto rifacendo in questo momento, che è completamente differente. Io vi ringrazio per questo buono azione, questi dieci anni fantastici che mi avete fatto vivere e vi ringrazio oggi per esservi fidati di me e di essere stati dalla mia parte, che non è facile trovare persone che... oggi dopo ciò di fidarsi dell'altro, di dare amore senza nulla in cambio e questo voi l'avete fatto per tutti questi anni, io vi ringrazio tantissimo, anche chi non ha fatto dieci anni, chi ne ha fatti di meno, perché... dico sempre che non è la quantità che fa il tempo, ma è la qualità che fa il tempo, e io non ho scoperto di me, grazie mille! grazie mille! grazie mille!